Come vedete siamo arrivati all'epicentro dove c'era la fabbrica dei fuochi schiattarella nella proprietà Caruso dei miei assistiti ebbene finalmente vediamo un terreno quantomeno percorribile cosa che non era possibile perché sostanzialmente era inondato da carcasse di macchina era inondato da una serie di rifiuti speciali e non ebbene siamo a un buon punto della ripulitura almeno superficiale del terreno di questa attività se ne voleva prendere merito la politica la politica che mi ha avvicinato in varie occasioni ma non è merito della politica, è merito di questi incartamenti, di queste pecca in merito di queste attività che noi puntualmente colpo su colpo abbiamo messo a segno con la nostra insistenza, la nostra petulanza, il nostro modo di fare ebbene noi non siamo negli elenchi dei candidati alle regionali non abbiamo questo tipo di mira o quantomeno queste attività le facciamo per la tutela del nostro territorio, dei nostri figli e quindi se la politica vuole una mano col sottoscritto può venire tranquillamente a fare la bonifica nell'altro ex campo nomadi che è specularmente di fronte dove i signori da qui si sono divisi tra il campo nomadi di Qualiano e il campo nomadi di Giuliano qui di poco avanti che vi metterò appunto le foto della sporcizia e dell'immondizia ancora presente su questi nuovi campi attivi quindi vi dico signori della politica di destra, di sinistra, di centro il sottoscritto mette a disposizione il suo servizio e lo fa per la tutela del suo territorio e non certo per i vostri favori quindi sappiatelo che il diritto della bonifica e le attività che sono fatte e saranno fatte su questo territorio sono state fatte grazie agli interventi legali non grazie alla politica buona giornata a tutti avvocato esposio beniamino sportello del cittadino grazie agli interventi legali